amici ben ritrovati per una nuova avventura con sergio e papà allora allora amici guardate oggi sergio che pigiamino c'ha allora come si chiamano questi personaggi che sono disegnati sul tuo pigiamino eccoli qua scopriamoli scopriamoli guardate ci sono sia davanti pure dietro ce l'hai papà girati un attimo fa vedere ah no dietro no però ci sono anche sul pantalone fa vedere guardate guardate quanti ce ne sono papà adesso devi indovinare qual è l'impostore allora indoviniamo qual è l'impostore è questo l'impostore è sbagliato ce n'è un altro forse questo questo con l'uovo questo c'è l'uovo fritto in testa guarda è questo l'impostore no tutto sbagliato veramente era questo e questo è questo qua questo che cos'è una pera in testa che c'ha un alieno ah l'alieno ah l'alieno giusto giusto ah quindi l'impostore è questo blu con l'alieno in testa ho capito e questo è un altro impostore fai vedere un altro impostore viola sembra con l'alieno insomma questo c'è la banana e questo il formaggio quindi quello là con l'alieno è l'impostore e che fa l'impostore papà uccide le persone mentre le persone normali invece no ho capito guarda ho capito bellissimo papà comunque questo pigiamino allora questo dove l'abbiamo preso da zara no ikea ikea l'abbiamo preso no no ikea zara vabbè vogliamo saluto agli amici se vi è piaciuto il video pollice in su la cosa importante iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale così non vi perdete nessuna avventura di sergio ciao a tutti ciao